Allora, vediamo un piccolo tutorial su come si conclude un corso alla zipper e su come si festeggia se c'è qualche evenienza. Si prende la vittima, che è una soppressa, in questo caso una bondola veneta, la si appoggia sul tagliere e gli si toglie la testa. A quel punto si procede con l'eliminazione del cosiddetto bueo, che però viene via in maniera semplice. Sisti, il gugnale c'è, non è stagionata per cui ho idea che non ci stiamo facendo una bella figura nel filmato. Ma è lo stesso su YouTube, è importante partecipare. Passami uno dei tuoi salami, Mattias, che facciamo vedere questa tecnica in maniera... Ah, adesso sta venendo, sono stato purtroppo un po' lento e ho rovinato il filmato. Passami, passami la tua. E dopo facciamo una sequenza un po'. Accelerata. Devi ritagliare Massimo, devi ritagliare, fare tagli e cucci. Era buona la prima. Sempre buona la prima noi, eh. Tutti i filmati che abbiamo su YouTube, ecco qua, perfetto. Vediamo se con l'altro salamino la cosa viene meglio. Allora, via la testa, sbudellamento laterale, eliminazione del cosiddetto bueo. Oh, vedi, questo è più malleabile. E poi si procede con la creazione del mangiamento. Fisica. Avviciniamoci con la ripresa. Le fette devono essere belle, omogenee, ma nel frattempo ci vorrebbe anche chi le acchiappa al volo e comincia a metterle nelle fette di sale. Mi offro volevario. Ecco qua. Questo era corso di soppressa veneta, livello zero. Segue l'Advanced. Ok.